Nello scorso video abbiamo visto un altro esercizio svolto relativo alla divisione tra polinomi. In questa lezione andremo a vedere l'ultimo esercizio relativo a questo argomento ed inserirò un esercizio abbastanza patologico, cioè più difficile rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza. Che cosa dice la traccia? Abbiamo 31a al quadrato b al quadrato meno 13a al cubo b meno 38a b al cubo più 24b alla quarta più 2 alla quarta diviso 4b al quadrato più 2a al quadrato meno 3ab. Cosa ha di particolare questo esercizio? Beh, si vede chiaramente che questo esercizio contiene più di una lettera, cioè tutti gli esercizi che abbiamo visto fino ad adesso contenevano ad esempio solo la lettera x, solo la lettera c, solo la lettera a e così via. In questo caso abbiamo non solo una lettera ma ne abbiamo due, abbiamo la lettera a e la lettera b. Come vi ho già detto in tutti gli altri video, quando si utilizza la divisione tra polinomi bisogna effettuare un ordine decrescente in base alla lettera. Ma in questo caso, in base a quale lettera dobbiamo effettuare questo ordinamento? Cioè dobbiamo ordinarli rispetto alla lettera b oppure rispetto alla lettera a? Dico già adesso che qualsiasi scelta voi andrete ad effettuare, il risultato finale sarà ovviamente equivalente. Però è giusto andare a, una volta effettuata la vostra scelta, andare ad applicarli in maniera corretta. Inoltre dovete essere coerenti con la vostra scelta, in quanto non potete ordinare il dividendo ad esempio rispetto alla lettera a e il diviso rispetto alla lettera b. Quindi se effettuate l'ordine rispetto alla lettera a in maniera decrescente dovete effettuarlo sia per il dividendo sia per il divisore, altrimenti sbagliate. In questa lezione andremo a vedere entrambi le soluzioni. Cioè prima andremo a effettuare l'esercizio utilizzando l'ordinamento rispetto alla lettera a e poi vedremo l'ordinamento rispetto alla lettera b. Vi dico già adesso inoltre che quando avete un esercizio di questo tipo, cioè dove avete la divisione tra due polinomi e questi polinomi contengono più lettere, vi conviene utilizzare il metodo canonico. Anche se potete utilizzare quella di Ruffini ve la sconsiglio perché sicuramente andrete ad effettuare degli errori algebrici. In questo caso in realtà siamo costretti ad utilizzare il metodo canonico in quanto il divisore, come potete notare, è un trinomio di secondo grado. Quindi non si può applicare la regola di Ruffini. Andiamo ad ordinare questi due polinomi rispetto alla lettera a in maniera decrescente. Quello di grado più alto del dividendo rispetto alla lettera a è alla quarta, quindi 2 alla quarta, poi abbiamo a al cubo, quindi meno 13 a al cubo b, poi abbiamo a al quadrato più 31 a al quadrato b al quadrato, poi abbiamo a che contiene questa roba qui, meno 38 a b al cubo, e poi abbiamo ovviamente il termine noto, cioè il termine che non contiene la lettera a in quanto c'è il grado 0, cioè 24 b alla quarta. E poi abbiamo, abbiamo scritto correttamente, poi dobbiamo ordinare il divisore sempre rispetto alla lettera a, quindi 2 a al quadrato meno 3 a b più 4 b al quadrato. Fate bene attenzione perché quando andate ad effettuare la divisione tra due monomi, in quanto in realtà il metodo canonico prevede proprio questo, dovete stare attenti al fatto che non sempre sostiste la condizione di divisibilità tra monomi. Infatti, visto che compaiono più lettere, è molto probabile che in alcuni casi la divisione tra quei due monomi non si può effettuare, quindi ad ogni step dovete controllare se è possibile effettivamente effettuare la divisione tra quei due monomi. In questo esercizio in realtà la divisione si potrà effettuare sempre, in quanto è un esercizio didattico che ho preso online, quindi verrà in maniera abbastanza precisa. Utilizziamo il metodo canonico, quindi 2 a alla quarta, poi abbiamo meno 13 a al cubo b, poi abbiamo 31 a al quadrato b al quadrato, meno 38 a b al cubo, poi abbiamo 24 b alla quarta, diviso 2 a al quadrato meno 3 a b più 4 b al quadrato. Man mano che svolgeremo l'esercizio vi farò vedere tutte le possibili problematiche. Dobbiamo fare 2 alla quarta, diviso 2 a al quadrato, vi viene ovviamente a al quadrato, al quadrato per 2 a al quadrato viene 2 alla quarta, cambiato di segno viene meno 2 alla quarta. L'esercizio si procede nello stesso modo, però state bene attenti. Quando andate a effettuare il prodotto tra il quoziente parziale e il divisore dovete stare attenti perché in alcuni casi può succedere che vi compaia un monomio che ha una parte letterale che non è simile con nessun monomio all'interno del dividendo. Ad esempio, se compare a alla quarta b, qui non compare nel dividendo, quindi che significa? Che dovete inserire un monomio che ha lo 0 davanti con la parte letterale identica, cioè 0 alla quarta b. In questo modo non commetterete errori algebrici. Poi continuiamo, a al quadrato meno 3 a b viene meno 3 a al cubo b, cambiato di segno viene 3 a al cubo b. Poi abbiamo a al quadrato per 4 b al quadrato, viene 4 a al quadrato b al quadrato, cambiato di segno viene meno 4 a al quadrato b al quadrato. Facciamo queste differenze, qui abbiamo 0, qui abbiamo meno 13 più 3 viene meno 10 a al cubo b, qua abbiamo 31 meno 4 che ci dà come risultato 27 a al quadrato b. Andiamo ad abbassare adesso un monomio, dobbiamo procedere sempre allo stesso modo, quindi meno 38 a b al cubo viene abbassata. Da questo step si può effettuare una divisione? Ovviamente sì, perché qui abbiamo grado 3 a livello di lettera a e qui abbiamo grado 2, quindi il grado è maggiore. Però bisogna verificare se sussiste la condizione di disabilità tra monomi, in questo caso sussiste perché qui compare la lettera b, è vero, però qui non compare, quindi qui è come se ci fosse un grado pari a 0 che è inferiore rispetto al grado 1 che compare nel dividendo. Quindi dobbiamo fare meno 10 a al cubo b diviso 2 a al quadrato viene meno 5 a b. Meno 5 a b per 2 a al quadrato viene meno 10 a al cubo b, cambiato di segno viene 10 a al cubo b. Poi abbiamo meno 5 a b per meno 3 a b viene 15 a al quadrato b al quadrato, cambiato di segno viene meno 15 a al quadrato b al quadrato. E poi abbiamo meno 5 a b per 4 b al quadrato viene meno 20 a b al cubo, cambiato di segno viene 20 a b al cubo. Ok, facciamo queste differenze, qui abbiamo 0, qui abbiamo 27 meno 15 che ovviamente c'è come risultato 12 a al quadrato b al quadrato, e poi qui abbiamo meno 38 più 20 viene meno 18 a b al cubo. Andiamo ad abbassare l'ultima cifra, qui abbiamo 24 b alla quarta e ci chiediamo a questo step è possibile effettuare la divisione, cioè 12 a al quadrato b al quadrato si può dividere per 2 al quadrato? Ovviamente sì, perché la parte letterale rispetto ad a ha lo stesso grado, rispetto a b a grado maggiore, perché qui è a grado 2, mentre qui non compare quindi a grado 0. Quindi 12 a al quadrato b al quadrato diviso 2 a al quadrato viene 6 b al quadrato. 6 b al quadrato per 2 a al quadrato viene 12 a al quadrato b al quadrato, cambiato di segno viene meno 12 a al quadrato b al quadrato. Poi abbiamo 6 per 6 b al quadrato per meno 3 a b, vi viene meno 18 a b al cubo, cambiato di segno viene più 18 a b al cubo. E poi che cosa abbiamo? 6 b al quadrato per 4 b al quadrato e viene 24 b alla quarta con il segno meno perché dobbiamo cambiare i segni. E come vedete qui c'è venuto un risultato particolare in quanto c'è venuto come resto un risultato pari a 0. E ovviamente questa cosa è normale perché essendo un esercizio didattico che ho preso online, chiaramente la divisione è venuta perfetta. Quindi significa che il divisore divide perfettamente il dividendo. Quindi cosa abbiamo scoperto? Andiamo ad appuntarlo da qualche parte, abbiamo scoperto che il resto è pari a 0 e che il quoziente è pari ad a al quadrato meno 5 a b più 6 b al quadrato. Vi faccio notare un piccolo particolare. Il quoziente ci è venuto ordinato in maniera decrescente rispetto alla lettera a. Ma questo non è un caso, cioè è un fatto abbastanza normale perché noi abbiamo ordinato i polinomi rispetto alla lettera a. Adesso andremo a ordinare i polinomi rispetto alla lettera a.b e vi farò vedere che in realtà come quoziente ci verrà lo stesso quoziente però invertito. Nel senso che sarà ordinato rispetto alla lettera a.b. Vediamolo subito. Allora, ordinato rispetto alla lettera a.b come viene? Dobbiamo ordinare sia il dividendo sia il divisore, voi lo avete sul vostro foglio. Allora io vi scrivo direttamente il polinomi ordinato rispetto alla lettera a.b. Come potete vedere abbiamo la lettera b alla quarta, quindi 24b alla quarta, poi abbiamo b al cubo, quindi meno 38ab al cubo, poi abbiamo b al quadrato che è sotto la voce 31a al quadrato b al quadrato, poi abbiamo la lettera b che è sotto la voce meno 13a al cubo b e poi abbiamo più 2a alla quarta che è il termine che non contiene la lettera b. Vediamo se abbiamo fatto in maniera corretta, abbiamo messo prima il 24, poi il meno 38, poi il 31, poi il 13 e poi il 2. Ovviamente abbiamo fatto correttamente diviso. Andiamo ad ordinare il divisore rispetto alla lettera b, quindi viene b al quadrato, poi abbiamo b e poi abbiamo a al quadrato. Quindi viene 4b al quadrato meno 3ab più 2a al quadrato. Effettuiamo la divisione utilizzando sempre il metodo canonico. Quindi abbiamo 24b alla quarta meno 38ab al cubo. Ovviamente questo è un esercizio didattico. È chiaro che in un esercizio d'esame non ha senso andare a svolgere l'esercizio due volte, cioè non ha senso andare a utilizzare entrambe le scelte, perché ovviamente perdete tempo. Vi consiglio sempre di utilizzare una strada sola e poi di verificare il vostro risultato per verificare se avete commesso degli errori algebrici, perché vi posso assicurare che errori algebrici in questo tipo di esercizio possono capitare. Dobbiamo fare 24b alla quarta diviso 4b al quadrato, ovviamente vi dà come risultato 6b al quadrato. 6b al quadrato per 4b al quadrato viene 24b alla quarta, cambiato di segno, viene meno 24b alla quarta. Poi abbiamo 6b al quadrato per meno 3ab viene meno 18ab al cubo. Quindi meno 18ab al cubo, ovviamente però va cambiato di segno perché il segno di partenza è negativo. Ok, poi dobbiamo fare 6b al quadrato per 2a al quadrato viene 12a al quadrato, b al quadrato, cambiato di segno viene meno 12a al quadrato, b al quadrato. Facciamo queste differenze, qui abbiamo 0, qui abbiamo meno 38 più 18 viene meno 20ab al cubo. E poi che cosa abbiamo? Beh, qui abbiamo 31 meno 12, vi dà come risultato, se voi inserite 20 vi viene 32, quindi scalate di 1 e vi viene 19, quindi 19a al quadrato b al quadrato. Abbassiamo una cifra, allora qui che cosa abbiamo? Meno 13a al cubo, b. Adesso ci chiediamo a questo step è possibile effettuare la divisione? Verifichiamo, qui abbiamo b al quadrato, qui abbiamo b al cubo, quindi la lettera b non ci dà problemi, la lettera a non ci dà problemi perché qui compare e qui no. Quindi meno 20ab al cubo diviso 4b al quadrato vi viene meno 5ab. Meno 5ab per 4b al quadrato viene meno 20ab al cubo, cambiato di segno viene 20ab al cubo. Poi abbiamo meno 5ab per meno 3ab vi viene più 15a al quadrato b al quadrato. Ovviamente cambiato di segno viene meno 15a al quadrato b al quadrato. E poi abbiamo meno 5ab per 2a al quadrato viene meno 10ab al cubo b, cambiato di segno viene più 10a al cubo b. Andiamo a fare queste differenze. Allora qui abbiamo 0, qui abbiamo 19 meno 15 che vi dà come risultato 4a al quadrato b al quadrato. E qui abbiamo 13 meno 13 più 10 vi dà come risultato ovviamente meno 3. Quindi meno 3a al cubo b, andiamo ad abbassare l'ultima cifra, qui abbiamo 2a alla quarta. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo procedere con la divisione tra 4a al quadrato b al quadrato e 4b al quadrato. La divisione si può fare perché a livello di lettera b non ci dà problemi in quanti gradi sono uguali, e a livello di lettera a non ci dà problemi in quanto qui compare con il grado 2 mentre qui compare con il grado 0. Quindi 4a al quadrato b al quadrato diviso 4b al quadrato vi viene più a al quadrato. a al quadrato per 4b al quadrato viene 4a al quadrato b al quadrato, cambiato di segno viene meno 4a al quadrato b al quadrato. Poi abbiamo a al quadrato per meno 3ab viene meno 3a al cubo b, cambiato di segno viene più 3a al cubo b, e poi abbiamo a al quadrato per 2a al quadrato viene 2a alla quarta, cambiato di segno viene meno 2a alla quarta. Se è andato a fare queste differenze ovviamente vi verrà tutto 0, quindi abbiamo scoperto che utilizzando l'ordinamento rispetto alla lettera b ci è venuto il resto pari a 0 e il quoziente pari a 6b al quadrato meno 5ab più a al quadrato. E come vedete il risultato è identico, infatti questi due quozienti sono uguali. E' venuta fuori la cosa che vi ho detto prima, cioè visto che abbiamo ordinato i due polinomi rispetto alla lettera b il quoziente è venuto ordinato rispetto alla lettera b, infatti qui abbiamo b al quadrato, poi qui abbiamo b alla 1 e qui abbiamo b alla 0, quindi diciamo che il tutto si è svolto in maniera corretta. In realtà adesso si dovrebbe andare ad effettuare la prova, cioè bisognerebbe teoricamente moltiplicare il quoziente per il divisore per verificare se ci tira fuori il dividendo, però in questo caso non l'andiamo a fare perché abbiamo fatto due scelte diverse e ci è venuto lo stesso identico risultato, quindi ovviamente abbiamo svolto il tutto in maniera corretta però in generale voi andate a svolgere sempre la prova definitiva per verificare se l'esercizio l'avete svolto in maniera corretta. Diciamo che con questa playlist relativa agli esercizi di repilogo sulla divisione tra polinomi abbiamo terminato, quindi nel prossimo video inizieremo l'ultimo argomento importante relativo ai polinomi e stiamo parlando della scomposizione di un polinomio. Con questo video abbiamo terminato, come al solito se vi è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video. Grazie! Grazie! Grazie!